Io come detto prima al direttore ho un sogno, ma dobbiamo avere tutti un sogno, ma il mio sogno non è tanto su tutto aspetto quanti abbonamenti facciamo o quanti tifosi vengono allo stadio, il mio sogno è quello di portare questo stadio a essere pieno, sarà utopia perché sarà utopia, ma attraverso quello che non riusciamo a fare in campo, perché è sempre solo il campo che ti permette di far parlare di te e che ti permette quando entri dentro avere un colpo d'occhio importante qui a Trieste. Molti siti specializzati, alcune tv, giornali vi pongono invece fra le prime 4 o 5 squadre del campionato, esagerato, la lusinga, la preoccupa. Questo è un giochino che a me non piace. Però in tanti lo hanno sì, ma sai cos'è? Ogni società, ogni città cerca di mettere sempre davanti altre squadre rispetto alla loro, perché dà meno pressione, perché a me veramente fa piacere se parlano di Trieste che è ritornata nel grande calcio, nel grande calcio che conta, però noi personalmente, noi come società, noi come detti ai lavori, ma mi auguro anche come sento in giro i nostri sostenitori, loro vanno con i piedi, i piedi più ombro, dobbiamo essere cauti, fare mai il passo più lungo della gamba, perché negli anni passati è stato visto che parlare, parlare, parlare e poi non produrre ti porta a poco.